a inizio uto la scelta iphone ma i soldi dalla le tasse le prendono dal dalla cassa della banca le tasse quelle della casa della tua casa le prendono dal tuo cazzo devi pagare la tasse sulla casa anche su minecraft ma che gioco di merda c'è veramente ragazzi uno gioca al computer per evadere dalla reality plot e che ha cosa mi sono saputo a spiegare si ho capito scusate voi che non ho capito che merda di casa che ho fatto vabbè più che altro hanno detto che le tue prigioni fanno un po' cagare la mia molto colorata la prigione esatto ho scavato per andare ovunque qui è dolce